Sono Graziella Pica, direttore commerciale per l'Italia e i paesi del Mediterraneo orientale di World Hotels, una compagnia alberghiera internazionale con 500 alberghi nel mondo, di cui 30 in Italia. Il nostro fattore X riteniamo che sia quello della differenziazione. I nostri alberghi sono ognuno diverso dall'altro perché esprimono la realtà locale in cui si trovano. Il contesto italiano è quanto di più complesso e variegato possa esistere nel mondo. Noi abbiamo la fortuna di esservi presente con delle strutture ognuna diverse dall'altra e quindi questo cattura l'interesse e la curiosità dei nostri clienti e nel contempo la possibilità che offriamo loro della qualità imprescindibile legata ad un marchio internazionale ci aiuta e ci supporta e poi l'altro grande elemento è quello dell'innovazione, l'innovazione nella tecnologia e nell'ascolto dell'esigenza della clientela. Il Biz Travel Forum è assolutamente un appuntamento diverso dagli altri, nel senso che è un appuntamento di networking e di formazione, per cui è per noi un momento importante per continuare a mantenere il rapporto con la clientela delle aziende e con la stessa UV Tamex con cui abbiamo un ottimo rapporto lavorativo.